... maglietta che cerca un lancio profondo per Ferrari, Ferrari, Ferrari in area, Ferrari in area... ... bum 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 bum, viva viva viva, Nick 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 Nick, Ferrari, Nick Di Romite ha bravamente superato un avversario, ha intratinato, ha controllato e ha battuto Pavarini, esultante, festosa dei sostenitori dell'NAS, Parma 0, Verona 1, la squadra di Serie A, sempre il nostro Verona e non è neppure la squadra titolare, manca Alfredson soprattutto tra i campioni dell'NAS, ma questi ragazzi sono davvero tutti dei titolari che meritano il nostro applauso Appoggia per Russo lateralmente il cross, in mezzo, go, 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 go! Ale, 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 don, 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 viva, viva, Guamito, Guamito Gomez, straordinario gol di testa al termine di un'azione che gli stesso aveva tra il primo iniziato e che ha concluso con un colpo di testa magnifico.